La piattaforma IoT Connectendo rappresenta per Zopass Industries una maniera trasversale di generare innovazione verso i clienti e verso la propria produzione. Noi riteniamo l'IoT una piattaforma abilitante, un insieme di tecnologie abilitanti che servono a raccogliere informazioni, a trasformarle in valore per il nostro cliente o per le nostre aziende. Le tecnologie sono state messe assieme unendo intorno allo stesso tavolo competenze di business, competenze di tecnologia e competenze di design che normalmente non sono sedute allo stesso tavolo e questo diventa un modo anche di fare innovazione. I benefici che posso sottolineare in questa fase di prima adozione del prodotto sono l'aumento delle competenze tecniche per trasformare i dati in informazione e l'aumento di pervasività di queste tecnologie all'interno dell'azienda e quindi il numero di persone che ha conoscenza del fatto che un certo tipo di tecnologia è in grado di generare valore per il business stesso.